allora abbiamo detto quindi sicuramente ci vuole la convinzione una grande forza di volontà poi rispetto all'attitudine psicofisica per affrontare questa vita e hai qualcos'altro da aggiungere che sicuramente è uno step successivo no c'è nel senso non osservi questo pur stai girando incomincia a fare questa vita anche se stai prendendo 150 euro anche gratis anche gratis però stai cominciato a suonare nei locali sei cominciato a suonare nei locali ti sei fatto il tuo giro bene o male di locali e devi stare attento devi stare attento alla salute per stare attento alla salute fisica e la salute mentale perché il questo il fare festa ti può portare entusiasmo ovviamente adrenalina proprio sì sì soprattutto le prime volte ti puoi lasciare andare no ti puoi lasciare andare nel senso che vai lì e fai serata come se stessi andando lì a ballare ma in effetti usi lì a lavorare però il tuo l'entusiasmo la felicità di trovare pubblico che ti ascolta che possono essere anche 50 persone non è importante cioè però di gente che lì che ti sta ascoltando ed è lì per te soprattutto ti porto un senso di euforia e soddisfazione che ti può magari far passare dalla testa che stai lavorando perché poi tu vedi comunque quell'x dj famosissimo che si combina in una maniera pezza quindi tu dici se io lo faccio non lo nota nessuno anzi magari eppure figo farlo lo fai una sera lo fai due sere lo fai tre sere lo fai quattro sere questa è la via più sbagliata che si può intraprendere uno perché deve ammazzare la tua creatività così facendo due perché la una serata diventa lo stimolo per sballarsi tre tu stai lavorando tu sei un emergente e stai lavorando devi c'è te lo devi mettere c'è non ti puoi permettere passi forse una persona che c'ha un nome che c'ha vent'anni di carriera che c'ha può permettersi qualche passo falso ma anche lì anche grandissimi io ho avuto modo di non voglio fare nomi perché è una cosa poco elegante in questo in questo esempio però ho avuto artisti ho lavorato con artisti ho avuto l'opportunità di lavorare con artisti fenomenali che erano sulla cresta dell'onda e per il loro sballarsi a ogni serata i ragazzi sono si sono annientati hanno buttato una carriera fantastica tu pensa un ragazzo emergente che si butta cioè io capisco l'entusiasmo capisco tutto però ragazzi mi va preso come un lavoro perché lo è perché per due ore tu puoi prendere soldi che gente guadagna in un mese in sei mesi cioè rendiamoci conto lo so che tu ti stai divertendo e non dico nemmeno di non berti un cocktail o una birra non dico che sei c'è che devi fare il frate cappuccino però innanzitutto pensa a quello che stai facendo perché sei tu lì è la tua faccia lì è il tuo mestiere tu ogni volta che suoni lo devi sfruttare per imparare perché quello è apprendere e addirittura se ti pagano perché anche gratis va benissimo all'inizio ma se ti pagano ti stanno pure pagando per apprendere ragazzi è una roba e non se tu non stai attento a determinati atteggiamenti a determinate diciamo abitudini perché poi diventa un'abitudine che ti devi sballare che devi scoprire non riesci più a suonare se non fai così ragazzi ci sono esempi enormi di artisti che sono anche morti perché hanno seguito questa strada cioè è da considerare che poi un emergente è proprio la cosa più sbagliata è come se tu vai non lo so hai studiato tanto per entrare a lavorare in banca ok sì e tu la prima volta che va in banca tutto contento a lavorare vai tutto sballato dici cazzo ma come io inizio a fare danni ma come sì è la stessa cosa con la differenza che magari lo stipendio che la prendi in un mese l'altro lo puoi prendere in due ore guarda io mi ricordo Zenzo un paio di serate proprio all'inizio dove mi ero veramente ubriacato mentre suonavo avevo suonato proprio ma non male perché poi quando ti ubriacchi a suonare proprio male 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 cioè fai fatica quasi a stare dietro la console ti gira la testa non riesci a suonare e quindi dopo la seconda volta che mi è successo è basta veramente c'è il limite perché ti perdi un'occasione come detto tutti ti bruci non non sei professionale il promoter non è contento la gente non è contenta tu non sei contento no tu magari sei pure con te tu magari sei pure convinto che è spaccato cioè la cosa allucinante però tu allora per fare il dj la cosa fondamentale fondamentale è stabilire un legame tra artista e pista diretto tu la non devi suonare la tua musica capiscimi su quello che è quello che dico io ora me l'hanno detto artisti che sono stati i numeri uno al mondo tu devi suonare per la gente quando tu pensi che tu la tua musica è più importante della gente che ti sta venendo ad ascoltare non è capito nulla è finito sto mestiere il dj deve suonare per la gente perché senza gente il dj non esiste quindi cosa più importante non è che io vado in serata cazzo trova la gente commerciale devo mettere il disco commerciale no e scegliere bene dove vai a suonare ciao Grazie a tutti